Se ti interessa acquistare i crediti di FIFA scontati, clicca il link in descrizione Ma bella a tutti ragazzi, ed eccoci qua ritornati con Neck Scureggia Spero non vi siete dimenticati di lui perché è un tipo molto permaloso Guardatelo lì che faccia severa che ha E sta puntando ai culi di chi prova a dimenticarselo Comunque signori, nello scorso episodio avevamo fatto il migliore esordio possibile nel PSG Perché grazie alle nostre prestazioni avevamo vinto la prima partita in campionato La prima partita in Champions E avevamo mostrato quanto siamo forti anche a livello di nazionale Comunque signori, la situazione adesso è questa qui Siamo terzi, a pari punti con i quarti e i quinti Però il primo posto è lì Max Scureggia è pronto e voi dovete essere pronti a lasciare like per l'episodio di oggi Perché lo sapete no? Se non lasciate like Max Scureggia è lì, dietro di voi, ad annusarvi Quindi signori come sempre proviamo a superare i 20.000 likes per Max Scureggia E adesso ci andiamo a giocare la prima partita di oggi Attenzione è rientrato anche il Di Maria signori E non siamo stati convocati Che bella cosa Ah poi ragazzi una cosa che mi avete consigliato nei commenti Ho messo il numero 7 a Max Scureggia Guarda si intravede lì sulla coscia Mi sono tolto il 10 perché era giusto che fosse di Ibrahimovic quel numero E così non proverà a stuprarmi col naso in campo Comunque signori vediamo un po' questa partita Siamo contro i Gazelec che perdono da tre partite di fila E comunque non vedo neanche Di Maria in formazione E stiamo già vincendo Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Brutti incapaci Cioè proprio senza De Noio non riescono a fare un cazzo questi E con quel pareggio ragazzi siamo scesi in quarta posizione Bravo PSG che non fa giocare Mac E questa partita contro il Rams la giochiamo porca puttana Ed eccoci lì sulla fascia e giochiamo con Ibrahimovic fin dall'inizio Stavolta non dobbiamo fare gol per farlo entrare in campo Ok signori ci siamo Dobbiamo riadrizzare le sorti di questo campionato Perché quando non giochiamo il PSG fa cagare Quindi dov'è Mac? Inquadratemi Mac In compenso inquadrano Tiago Silva Maledizione perché le telecamere ci odiano No lo so perché Ci siamo ci siamo subito Ongen da lì che mi ha passato la palla Ok vai vai Mac Ok Mac subito Fai vedere che ci sei Fai vedere che ci sei Mac Mamma mia il panico Perché me li dribblo e mi abbassi il voto Corri Mac Non provate a falciarmi pezzi di merda Mac lo no Porca puttana ha fatto una finta Si è piantato con lo scarpino per terra Ok ok Mac Sovrapponiti Sovrapponiti Orie Corri Orie Vai Madonna ma è cattivissimo Con i voti comunque Me la basta come niente Attenzione Ok Bella Ibra Ibra che mi vede senza che neanche me la chiamo Mamma mia c'è già sintonia tra i due nasoni C'è già sintonia Corri Mac Corri Mac ok Mettila in mezzo Oddio Oddio ma l'hanno ucciso Gli ha portato via i piedi insieme alla palla Maledizione però non è fallo Vai Mac Su Su Mac Ok Mac Ok Mac Bravo Mac Lo mette lì Passa la Ibra Ibra Imović Ibra Imović Che mi schifa malamente E mi fa insultare da solo Vieni qui Ibra Porca puttana fondiamoci e creiamo l'essere perfetto Maledizione non mese in cula Dov'è eccolo sta arrivando Mac Eccolo lì Mac Gli è saltato addosso dopo Mentre lo tenevano fermo gli altri No non la voglia faceva Aia Aia No No che ha fatto Tiago Silva lì Cosa ha fatto Tiago Così meno male che c'ha i piedi a X Incredibile Che ha fatto la Tiago Veramente Mi si è messa a contare i fili d'erba Qua rabbio Guardami Bravissimo rabbio Ok Vai Mac Ok Corri Mac Corri Mac E' il momento di Nella gloria Dove cazzo l'hai passata Mac Maledizione la devo dare a Ibra Perché l'ha data là dietro La prossima volta che salgo così ragazzi Provo a tirare eh Perché E' il clima del PSG ragazzi Sono un po' sottomesso al fatto di dover passare la palla Bravo Mac Mamma mia come apre sto cazzo de campo Corri Mac Metti Oh l'ha messa L'ha messa Questo è gol Questo è gol No non ci credo Cosa ha fatto quell'altro Non ci vede Date gli un paio d'occhiali Ok Bella qui Bella qui Ok Mac Ok E' tutto chiuso E' tutto chiuso Maledizione Scatta figliolo che t'ho visto Bella Urie Bella Urie Ma ha cambiato la palla Oddio Quello ci è morto Provandila a me Cosa sta succedendo Bella Gran velo Oh Arbitro Le ascelle in faccia So fallo Su Mac Guarda Ibra Che palla No Ibra Non puoi sprecare queste occasioni Maledizione Primo tempo ragazzi E' andato così Stiamo giocando bene Ma stiamo solo 1-0 Dobbiamo concretizzare di più Eccolo Mac lì Tutto feliciotto Non è vero Stava bello così Un po' raggrinzito Guardami Ibra Eh porca puttana Un po' fuori tempo Ibra Maledizione Oh Attenzione E' mia E' mia E' mia Mac Come confonde gli avversari Guarda Bravo Mamma mia Mac Oddio di petto Grande azione Grande azione Guardami Ibra Ibra mi ha visto Ibra Ha visto Ibra ha visto Mac Valla da abbracciare No No Ma no Un Genda No Lasciami abbracciare Ibra Perché nessuno vuole far creare L'essere perfetto Dalla fusione Tra Ibra e Mac Ma porca puttana Che palla che m'ha messo lì Bella Vai Verratti Vai Verratti Ok Ok Oh ma ha visto Mi ha visto Mi ha visto Verratti Mi ha messo l'ha presa Vai Vai Mac Su Forse è l'ultima azione Questa qui Forse No Non ce la fa fare E' finita signori Mac scureggia Porta alla vittoria Il PSG Un'altra volta Siamo anche saliti Siamo passati da 79 A 80 E siamo contro il Besiktas Però ragazzi Non so se avremo il tempo necessario Per recuperare le forze E giocare questa partita Ah ok Ci ha dato il riepilogo Delle ultime quattro partite Ragazzi Siamo riusciti a fare tutto E ci ha inserito ragazzi Sarà la nostra seconda partita Di fila In Champions Il mister conta su di noi Sa che possiamo fare la differenza Ah ok Tornato la Vezzi E non c'è Ibraimovic A quanto pare la Champions Non la fanno giocare Ibraimovic Da titolare E' tutta di Cavani Quindi Vediamo cosa riusciremo a fare Contro il Besiktas Ragazzi Questa partita sarà decisiva Perché è lo scontro Al vertice del girone Dov'è Mac? Eccolo lì dietro Che saltella E' pronto E' pronto Si sta già dando lo slancio Per saltare nel culo Degli avversari Ho uno di voto Ma What the fuck Cioè Ecco 5.9 Cioè O partiamo con super voto Cioè Uno non l'avevo mai visto Ve lo giuro Ahia Il Besiktas è partito forte Il Besiktas è partito Oddio Se è partito forte Il Besiktas ragazzi Besiktas sta giocando Una gran partita Però Mac Legge la situazione Vai ripartiamo Ripartiamo Su Su Mac Fai sta cazzo di differenza Fai sta cazzo di differenza Corri Verratti Vai da solo Verratti Vai Cavani Cavani Mi ha visto Porco 2 Che peccato Eh ragazzi Sto in area a marcare Non è una gran cosa per Mac Non è una gran cosa per Mac Ma fa anche il difensore centrale Che è alto la metà Di un difensore centrale Lui Eccolo qui Tutto incazzato Stati Ma perché sto qua dietro Guardami Bellissima Bellissima Oh 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 Ma smontato Arbitro Fa qualcosa Chi è che le tira Eh Cavani le tira Le tira Cavani Vediamo che combina Vediamo che combina L'ha messa bene Cazzo Me la sarei chiamata Però ho detto No vabbè Facciamogliela tirare Vediamo che succedeva Eh l'ha tirata bene Però non ha girato Sali Sali Oriè T'ho lanciato Vai Oriè Vai da solo Oriè Sto troppo indietro Sto troppo indietro Oriè C'avevi un cazzo di chilometro De vantaggio Sei tornato indietro E ti sei fatto rompere il culo Vai su Mac Fai vedere di che pasta sei fatto Fai vedere di che pasta sei fatto Sei fatto di pasta al burro Maledizione Oddio ragazzi Sarà che la Champions È la Champions Ma a me queste partite Mi sembrano molto più complicate No non ci voglio Oh mio Dio Cosa cazzo ha sbagliato Primo tempo ragazzi Oddio Sarà sicuramente un episodio individuale Che sbloccherà tutto Max Courage Sta pensando la stessa cosa Oppure sta pensando a chi stuprare Non lo so Sta di fatto che non stiamo vincendo Vai Vai Madonna siamo stanchi morti Siamo già stanchi ragazzi Porca puttana Ma perché mi abbassa il voto se sto facendo una gran salita Orie cosa cazzo fa Mi ha fatto sprecare tutta quell'energia per fare lo stronzo maledizione È entrato Ibrahimovic ok È entrato Vediamo un po' adesso Siamo stanchi ragazzi Vediamo cosa riusciremo a fare con Ibra in campo Mamma mia ok 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 Io non lo so Sarà Ibra che dà la carica Sarà Ibra che dà la carica a questa squadra Però non lo so Oddio Oh Ibra Oddio che cazzo di quello che ha fatto Oddio fatti abbracciare Vieni qui Vieni qui Vai da lui Vai da lui Si stanno fondendo finalmente Porca puttana Oh come è entrato La squadra ha iniziato a girare Qui ha provato a passarmi la palla Non mi è arrivata Gli è tornata E ha ucciso tutto Ok Ibra bravo Ibra Pure qua Ibra bravo Ibra che mi sei piaciuto Ok Mac Ok Mac Vai Mac No Stavo tirando Sono rimbalzato come un flipper sopra di lui Si un flipper intero che rimbalza tutte le parti Non una pallina E' finita Ce l'abbiamo fatta L'unico gol di questa partita lo fa Ibra E ci fa vincere questa partita Mac fa paura in tutti i sensi quando è in campo Però Ibra come entra la partita cambia Ok la partita di campionato è tra due giorni Io non penso che riusciremo a giocare Perché avevamo zero di energia dopo quella partita col Besiktas Infatti per questa qui non siamo convocati Eravamo veramente con la lingua e col naso per terra Per quanto eravamo stanchi Vediamo un po' Senza di noi che cosa succede Oh Abbiamo vinto ragazzi Vediamo un po' la prossima partita quale sarà Ah ok nazionale ragazzi Oh come nello scorso episodio abbiamo fatto campionato Champions e nazionale E attenzione la Romania è prima nel girone Perché ha vinto tutte e due le sue partite Quindi se noi riuscissimo a vincere oggi Ci prenderemo la testa del girone Dov'è Mac? Fatelo vedere Fatemi vedere Mac Fatemi vedere Mac Non lo inquadra nessuno Lì dietro ma lo telli Guardatelo si nasconde E' pronto a saltare fuori all'improvviso Fa gli agguati Vediamo se ci inquadrano Vediamo se ci inquadrano Vediamo se ci inquadrano Non ci inquadrano mai Eh ragazzi la Romania è un avversario scomodo Eh bisogna stare attenti Ecco infatti già bisogna stare attenti Guarda questi deficienti Bonucci non fare cazzate Bellissima questa palla Bellissima questa palla Nooo Hanno provato a uccidermi E non mi hanno fatto fallo Mamma mia Mac col controsole Quanto era bello Ok balo Bella balo Gran palla Gran palla qui Mettila in mezzo Andrei va Lai mio Oddio saltissimo Oddio che stacco Mac Bella che andremo Gran palla Vai balotelli Fatti vedere Ok Bravo balotelli Qui balotelli Gran palla Gran palla Per Mac Si Cazzo Mac Lo fa Lo fa Lo fa E nessuno che lo vada abbracciare Perché qua in Italia Siamo schifettosi Su queste cose E nessuno che lo vuole guardare Eccolo lì che si va a far vedere Anche i carabinieri Se stanno a nascondere Là dietro Ok Ti vedo No guarda No guarda Crozzo Vai Mac Ok ce l'hai Ce l'hai Mac Vai Marchesio Che sfighe Incredibile Aia Aia Toglietela Attenzione Cosa fai Darmian Ma che Ci andate addosso Oh mio dio Perché nessuno marca Comunque è finito il primo tempo E stiamo vincendo Ed è questo quello che basta Esci Vai balotelli Vai da solo balotelli Ma perché l'hai passata lì Potevi andartene Darmian Bravo L'hai messa E' peggio di abbate Con un pian cross Manco per sbaglio Quell'uomo Eccola La ripartenza Che difesa di merda Che abbiamo Dio santo Fermateli Fermateli Oh mio dio Oddio Mac Non ce la fa più Corri Mac Provaci Vai Mac Corri Corri Oh mio dio Sono morto Oh mio dio Sono morto Vai Vai Ma non riesce Manco più a passare La palla Corri Che è stanco pure lui È stanco pure lui Madonna sto cazzo Di flip di merda Nel culo le braccia Tu mamma era un flipper Porco cane Sai quante palle Che ha visto Oh mio dio ragazzi E' finita la partita E mi sono stoccato All'ultimo secondo Comunque signori L'importante è che Mac scureggia Fa vincere l'Italia Un eroe nazionale adesso Ok ragazzi Siamo ufficialmente Primi nel girone Adesso La prossima partita Sarà contro la Finlandia Già la vedo Però signori Per questo episodio Ci fermiamo qui Abbiamo fatto le nostre Tre partite Mac scureggia Ha portato alla vittoria La squadra In tutte e tre Quindi signori Spero che l'episodio Di oggi vi sia piaciuto Proviamo anche oggi A superare i 20.000 likes A spaccare tutto Perché altrimenti Mac vi spacca il culo Quindi signori Come già detto Per oggi è tutto Lasciate un like Lasciate un commento So di me saluta Bello 8 secondi Fanno fallo tutti Là in qualche modo Vai Pjanic Vai Pjanic Purgali Purgali cazzo Ok Pjanic Come prima su Miranda Come prima su Miranda Oh mio dio Sei Miranda Sai fa Iguain Iguain